In un tempo dove gli ADBB regnavano sovrani E questo è Sense Pro 3 E basta Già che sto facendo, ho già iniziato il video, mi hai rovinato la presentazione Attenzione, rullo di tamburi Ok basta, iniziamo questo stupido gioco Hai scelto di saltare Salta anche te Già No, mi stanno pestando, salta anche questo Ok ragazzi, siamo su Sentro e qui con me c'è Jug Bella ragazzi qua Jug E abbiamo deciso di fare tutta, tutta, tutta la campagna di Sentro Beh, vediamo Oh, oh, oh yeah, mi mancava questo gioco, mi mancava Dove sono, oh yeah, oh yeah, oh yeah Già dove sei? Dai vi dico ragazzi che ho già giocato a questo gioco, ho fatto tutto dalla storia E lo sto rifacendo per voi Ok fermo Già prima di aprire Voglio mettere, abbassare un po' il volume perché se dopo si sente troppo è un casino e dopo gli altri mi faccano la mamma e... Sapi che quando stai in puzzle siamo tutti in puzzle, cioè, pure io Quindi se io faccio così, sei anche tu in puzzle, vero? Primo tab per disconnettermi No Ok ragazzi Vai Ma sei inutile E' ora di... di giocare Oh, grande testa, aspetta Oh, grande testa Ok 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 ragazzi Tenteremo di fare queste missioni, non dico prima possibile, ma con la più tranquillità che... No way we're cracking Oh yeah Ready for plan B? Yep Josh Yep Got the tools right here, Holmes Ok, per chi non avesse mai giocato a questo gioco è una figata So, uh, what's plan B? Eh, really? Fuck no We blow What? Salta Ah Not cool, man Ok Abbiamo una bomba Vediamo di far saltare in aria questa merda Hey Hey Check this guy in company Looks like they're coming in from the lobby Chi è presente? Ah, puanere autografo Ah includes me No Sono io che la faccio, autografo Dado autografo Dado autori Autografo Inutile No, non posso ammazzarla, non ci credo Ok È ora di fare saltare in aria questa merda What the fuck? Oh yeah Boom Quello è U-Born, vero? Ma che U-Born? Arthur, yeah Oh mio dio Questa città sarà tutta nostra Siamo fottuti Josh, stai cercando di prendermi tutti il tempo di giro? Che? Non voglio essere alcuni ragazzi Non ho affanculo Ok, dobbiamo impararci il culo Morale della favola Io mi imbosco qua Arriverà un elicottero adesso No, ma dai Ah, Flashbang Ah, Flashbang Ma da dove? Da lato Tra l'altro questi qua sono quelli tipo imboscati Ah, cioè che ho dimenticato come si usano le tasche Eccolo Cosa sta facendo? Jack non mette le culo in faccia alle persone È maleducazione Oh, yeah Perché? Perché? Perché mi piace Va via Mike Stiamo combattendo qua Tu vuoi giocare Mike, get off my car Ok Era di fare fuori sti figli di puttana Che mi sembrano un po' troppo forti per i minchi Sopra, Jug Sopra Sopra Che palle, oh, ma sono dappertutto Levati dalla minchia Oh, yeah Ancora Cos'è quel coso? Cos'è quel coso? Cos'è quel coso? Un po' di assholes Ok Quell'elicottero lo prevedo molto malato Devi spararti Eh, ma dai, c'ero arrivato Oh mio Dio Cos'è? Jug, ma in realtà tu hai già fatto tutto il gioco Perché dici cos'è? Sì, ma l'ho fatto tanto tempo fa Non mi ricordo Non mi ricordo la tua storia Noi siamo praticamente una banda Che sarebbe Los Santos Sì, sì, lo so, ma cosa sta facendo adesso? No, ma sta spiegando alla gente E tu dove sei? Oh, ciao, Jug Ciao Dio, vai Chi mi sta Jug, il Chopper Eh, ma dov'è? Solo in cima Te ne sarei grato se lo ammazzassi Ammazza il Chopper, Jug È un casino È quello che sto facendo Quanto diavolo Oddio Ancora Mori Oh yeah Un altro Molto semplice Un altro Ah, c'è un cazzo di Chopper qua davanti Ti manco lo visto Ecco Dov'è il chopper? Io vedo tante persone Ecco il chopper Uno di chopper Devi proprio adesso caricare Bene Nei momenti più opportuni E basta Dove sei Jack? Jack non ti vedo Sono qua Dov'è il chopper? Eccolo sopra Chopper incoming Sì È morto No 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 È un casino Oddio no Perché proprio Dove sei te? Sono curato Sono sempre con te Questo lo devi sapere Oh mio dio Siamo nella cacca Questo non ci voleva Notate le canzoni Dapstep sotto Non è Dapstep Sì è Dapstep No non è Dapstep È patata Premiente Ok ragazzi La prima missione L'abbiamo finita Quindi ci vediamo Prossimo anno Ci vediamo al prossimo anno Ragazzi Ok Brevemente comunque Vi spiego la storia Noi siamo una banda di rapinatori Che si chiama I Saints Siamo ingaggiati Tipo anche per fare Tipo Tutte queste cose Tipo rapine E questo genere di cose E Niente Basta Io voglio il sex appeal Al massimo Ottimo L'età Qua personalizziamo un po' la gente Ma Bene o male Lascio tutto così Perché Guarda di solito randomizzo io Body Sex male Accetta Razza Asiatica Razza asiatica No dai Io lo faccio senza cape Strength Lo metto ci sono No 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 Massimo Muscoli Oh si Oh mi piace così Corpo però Età Un po' più giovane Ottimo Incorporatura Body mask Cos'è body mask? Sono un cazzo di un mostro Già che sono un cazzo di mostro Inizia partita Buah Comunque ragazzi Ci vediamo al prossimo episodio Ehi ci metto cent'anni Zitto Fammi parlare Mi posso parlare ora Vuoi davvero disconnetterti? No Ragazzi Al prossimo episodio Con una prossima missione Bella Un saluto Ciao a tutti Ciao ciao